Ha parlato da un trono senza potere di una regione canaglia tanto quanto i parlamenti nazionale ed europeo raccontando di quella vita politica che negli anni è diventata un inferno. Ospite all'arena sul Rai 1, il presidente della regione Rosario Crocetta svela le carte in tavola. Io non rispondo ai partiti, sono un uomo libero, ha dichiarato il governatore, per poi schierarsi sul fronte di chi abolirebbe i vitalizi dei deputati regionali ma non può farlo in assenza di una maggioranza. Ho trovato 2 miliardi di disavanzo e ha riportato Crocetta. L'anno scorso il bilancio è chiuso con un avanzo di 632 milioni. Ho ridotto la spesa per la formazione professionale, portato il sistema sanitario della regione dall'ultimo al settimo posto in Italia, oltre ad aver licenziato 600 persone, molte delle quali condannate per associazione a delinquere di stampo mafioso. E proprio in merito ai vitalizi il governatore annuncia di parlarne con il presidente dell'ARS, Giovanni Ardizzone, che seppur a distanza si scaglia non solo contro Crocetta ma anche contro Giletti. L'accusa fatta al presidente della regione sarebbe quella di non aver difeso l'isola, parlando invece di conflitto istituzionale. Ma Crocetta spiega di non aver mai attaccato Ardizzone e anzi di aver difeso l'ARS. Io vado in tv per difendere la Sicilia, anche polemizzando, ha affermato il governatore. Non temo mai il confronto, come ho dimostrato anche sulla vicenda dei disabili, sulla quale non ho certo ricevuto solidarietà dalle altre istituzioni.